Parigi è uno dei miei luoghi del cuore. A Parigi basta fare due passi a piedi per essere travolti dalla grandora del romanticismo, insomma non è difficile fare delle belle foto. Forse è difficile che siano originali. Ecco perché ho scelto questi tre account Instagram. Chloé Lerest è una fotografa di architettura e la sua galleria colpisce già per l'impaginazione scelta. Chloé non posta mai foto quadrate ma rettangolari, disposte in orizzontale e in verticale alternate. I soggetti sono palazzi modernissimi visti da diversi punti di vista e l'insieme crea un'atmosfera quasi metafisica. Édouard Jacqueline è un creativo che come Chloé ripudia il formato quadrato. Niente Tour Eiffel o Brasserie, Parigi è solo contemporanea e costruita da linee e dettagli più che da edifici interi. Baptiste su Instagram condivide due sue passioni, la musica techno e il brutalismo architettonico. Il risultato è una galleria veramente unica, dove si alternano immagini di esempi di brutalismo e video più intimi dedicati al suo mondo musicale. Se volete approfondire la conoscenza di questi tre account, venite sul mio blog elenacattaneo.it